Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, oggi video epico in Watch Dogs 2 Ventesimo episodio e ragazzi sfondiamo con i go kart, guardate ragazzi in alto ballo Vieni Diego, dove sono io? Entriamo dai box Dai box iniziamo Poi entriamo dai box così facciamo pure Ma dai Come invasione hacker Come invasione hacker Io già l'ho trovato, io già l'ho trovata forse Pensavo fosse No pensavo fosse l'hacker Eccolo Neutralizzalo Dai, grande, grande Dopo questa evenienza dai Arriviamo quando facciamo il giro Via ha iniziato la gara No no Dai no, non puoi tagliare dai Epico, epico, epico E uno è andato, uno è andato, uno è andato Aiuto 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 No No Aiuto 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 Sto registrando Aiuto Sì Ultimo giro Ultimo giro Troppo bello Sì Ti ho diciamo recuperato No No Hai vinto Devi entrare Devi entrare nei cosi Dovevi entrare nei cosi Dovevi entrare nei box Entrato Ok Epico 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 Mosso della sconfitta Arrivo Aiuto Dai ma non si rompe sto schifo Non si rompe il gocard però eh Non lo so vabbè intanto il video vabbè lo concludiamo qua dai Vabbè per questo video tutto ci vediamo il prossimo video bello ragazzi Ciao